E dunque ballottaggio a Sulmona tra Anna Maria Casini, candidato sindaco della coalizione Noi per Sulmona, e Bruno Di Masci, candidato sindaco invece del raggruppamento La Città che Vogliamo. Sì, abbiamo ottenuto un risultato strepitoso. Io ringrazio la città di Sulmona che mi ha voluto tributare questo grande onore e far raggiungere questo risultato. Ho un gruppo fortissimo, una coalizione fantastica. Insieme siamo andati ben oltre le nostre aspettative, perché comunque avevamo già chiaro che saremmo stati quelli in vantaggio. Ripartiamo oggi con una campagna elettorale ancora una volta tra la gente e per la gente. Io sono donna di squadra, porteremo il nostro gruppo il 19 a vincere queste elezioni. E quindi io con loro, con la mia squadra e con Sulmona riporteremo questa città al massimo dello splendore possibile, così come merita. La partita è assolutamente aperta, apertissima, e credo che possiamo farcela. Quali sono gli obiettivi da tenere sicuramente ancora in considerazione, da proporre agli elettori in questi 15 giorni che precedono il ballottaggio? Innanzitutto far uscire Sulmona dall'isolamento e nello stesso tempo cercare di tutelare i servizi, quindi l'ospedale, il tribunale, ma soprattutto fare una roadmap sotto l'aspetto economico perché Sulmona deve uscire assolutamente dalla crisi economica nella quale si trova. Grazie Un comune e 21 frazioni nelle quali risiedono oltre 3.000 cittadini. Il centro montano di Torni in parte è stato il più grande, tra quelli dell'Aquilano, chiamato alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. Una tornata che ha visto trionfare con oltre il 60% delle preferenze Giacomo Carnicelli, con 1.122 voti, davanti alla lista che vedeva candidato Domenico De Paulis, fermo al 34%, e al sindaco uscente, Umberto Gianmaria, che non ha raggiunto neanche il 5%. Un segnale netto che ha premiato la lista civica per cui però si è speso, e molto, anche il Partito Democratico, che torna a governare a Torni in parte. Torni in parte cambia pagina, cambia pagina con un grande consenso popolare dato a una grande aggregazione civica e adesso dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. I primi obiettivi? Dove deve cambiare il Comune? Beh, i primi obiettivi sono che è stato un po' il leitmotiv della campagna elettorale, è stato ripartire dalla ordinale amministrazione, quindi dai servizi primari, che devono essere condivisi per tutti, e poi accelerare quanto più possibile l'attuazione del piano di ricostruzione. E il consenso, ampio che ha premato il neosindaco, è testimoniato dagli attestati di stima che lo stesso primo cittadino ha ricevuto questa mattina nella piazza del Paese, dove tutti si sono detti soddisfatti per l'esito elettorale. Sono soddisfatto maggiormente perché questa è l'unica volta che si sta dimostrando di avere un grande cambiamento intorno in parte, perché in tutte le liste presenti ci sono giovani, anche quelli che adesso si ritrovano nelle liste perdenti. Non è detto che domani non possiamo tutti insieme ritrovarci uniti per portare innanzi questo nostro territorio. Perché? Perché conoscendo chi è, l'ho visto da bambino, da piccolo, ero sicura. Negli ultimi cinque anni qui si è avvissuto un clima un po' particolare, un clima di disgregazione, un clima di abbandono. Quindi io spero molto in questa compagine di giovani, anche nel rapporto che hanno con il sociale, anche perché il candidato sindaco proviene dal sociale, proviene dalla Prologo, proviene dalle altre associazioni. Quindi credo che praticamente insieme alle associazioni si possa costruire un futuro diverso per torni in parte. 29 nuovi sindaci eletti nella provincia dell'Aquila. Ad Alfedena il sindaco eletto è Massimo Scuro, a Bisegna Antonio Mercuri, a Calascio Ludovico Marinacci è il nuovo primo cittadino, a Campotosto invece Luigi Cannavici, a Canistro Angelo Di Paolo, a Capitignano è stato confermato l'uscente Maurizio Pelosi, a Carapelle Calvisio resta in poltrona Domenico di Cesare, a Castelvecchio Calviso invece, comune che era eletto da un commissario Rinaldo Pezzoli, l'eletto è Luigi Nantonacci, anima di molte associazioni culturali del territorio. A Cerchio è stato confermato Gianfranco Tedeschi, mentre a Civita Dantino sarà ballottaggio tra Sara Cecchinelli e Antonio Di Francesco, a Civitella Roveto eletto Sandro De Filippis, a Cocullo Sandro Chiocchio, a Fossa il nuovo sindaco è Fabrizio Boccabella, a Ofena retta da un commissario il nuovo sindaco Antonio Silberi, a Ortona De Marzi confermato Manfredo Eramo, a Ortucchio sarà ballottaggio tra Favoriti e l'uscente d'Aulerio, a Ovindoli Angelo Sante è il nuovo primo cittadino, a Pereto sarà sindaco Giacinto Sciò, a Prezza Marianna Scoccia, ex assessore provinciale, è il nuovo primo cittadino, a Rivisondoli l'uscente Ciampaglia è riconfermato, a Roccaraso è riconfermato di Donato, a San Vincenzo Valle Roveto resta sindaco Giulio Lancia e anche a Scontrone conferma per il Leana Schipani. A Scurcola eletta Mario Limpia Morganti, a Secinaro eletto Bernabei, a Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa cede lo scranno più alto a Vincenzo Giovagnorio, a Torni in parte eletto Giacomo Carnicelli, a Villalago confermato Fernando Gatta. Carabinieri in cattedra per l'open day della caserma dell'Aquila dedicata ai bambini degli elementari, un modo per conoscere da vicino le attività dell'arma dei carabinieri che ha messo in mostra mezzi e specialità. Ad accoglierli il capitano Francesco Nacca. Sono attività che noi svolgiamo tutto l'anno presso gli istituti di ogni ordine e grado e per quanto riguarda le scuole elementari è previsto invece un incontro nelle nostre caserme presso i comandi compagnia e i comandi provinciali dove poter far vedere con mano, far toccare con mano i mezzi e gli equipaggiamenti in uso all'arma dei carabinieri. Ovviamente la giornata è stata scelta proprio nella giornata odierna proprio perché ieri è ricorso il 202esimo della fondazione dell'arma dei carabinieri. Tutti in fila e tutti attenti nel seguire le spiegazioni dei carabinieri che hanno raccontato ai ragazzi tutte le loro attività sul territorio, suscitando l'interesse dei bambini che hanno interagito con i militari con tante domande. Iniziative importanti queste per avvicinare ancora di più la cittadinanza ai carabinieri. Rispetto al passato notiamo un'apertura sempre maggiore dei carabinieri, dell'esercito anche della polizia all'esterno. Quanto vi aiuta questo poi nel quotidiano anche nella collaborazione con il cittadino? È sicuramente fondamentale. La naturale vocazione dell'arma dei carabinieri è quella di avere un rapporto diretto con il cittadino e ancora di più con le giovani leve, non solo per far conoscere l'arma ma proprio per inculcare una cultura della legalità di cui c'è sempre più bisogno in ogni ambito. Grazie. Grazie a tutti.